Nel giorno della sua nascita io ero in montagna, quando aveva sei mesi io ero in prigione e quando ebbe tre anni ci incontrammo tra le baionette, lei offrì a me e a un poliziotto dei biscotti. Quando aveva sei anni alla nostra porta bussarono ordini di guerra, per un anno mi fecero girare tra Ankara, Istanbul e Diyarbakir. Quando venne a trovarmi in carcere si arrabbiò con me perché non tornava a casa e quando aveva sette anni dovetti uscire dalla sua vita e lasciare la mia terra. Ora ha otto anni, non conosce la ragione per cui l'ho lasciata, conosce la sofferenza e tutto quel che è avvenuto per lei ha il suono di un giocattolo infranto. La sofferenza e tutto quel che è avvenuto per lei ha il suono di un giocattolo infranto. grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.